io al momento uso kajabi e voglio passare a kartra l'abbonamento annuale di kajabi scadrato agosto bene abbiamo tempo siamo aprile quindi devo iniziare a programmare il passaggio del materiale per poter usare kartra da agosto in poi ci sono metodi veloci per fare questa operazione? ni puoi indicare un tempo di lavorazione che sembra adeguato e quindi suggerirmi come e quando iniziare a fare questo lavoro? il materiale presente sul kajabi è molto al momento abbiamo 25 prodotti e ogni prodotto contiene parecchi video non saprei dirti quanti esattamente ma se ritieni che sia utile come dato posso mettermi a contarli allora si è utile allora un metodo veloce un metodo veloce per utilizzare per fare un passaggio è sicuramente conoscere quello che è un funnel cioè disegnare il funnel quello che spesso capita quando si passa da un account all'altro io l'ho vissuto quando sono passato da Infusionsoft a Kartra ma ho dato supporto anche a chi è passato da ClickFunnel a Kartra immagino che la cosa si sarà sversale anche per kajabi la cosa importante è comprendere come si sviluppa il funnel esistono strumenti come ad esempio funneletix.io oppure Gero o anche una struttura su un foglio Word quello che preferisci un disegno su carta però è importante andare a disegnare quelli che sono diversi step andando a capire cosa accade se hai dei tag qual è la mail che viene inviata il contenuto va tutto disegnato se questo ce l'hai sei molto facilitata se non ce l'hai ti conviene disegnarlo perché le strutture, i due programmi kajabi e kartra per quanto facciano in parte le stesse cose sono probabilmente differenti su alcuni aspetti e sapere quello che faceva uno e cercare di far fare la stessa cosa all'altro spesso non ha successo non è una cosa utile bisognerebbe capire perché faceva qualcosa e eventualmente trovare una soluzione alternativa a quello che gli inglesi chiamano un workaround cioè un sotterfugio o qualcos'altro per avere comunque lo stesso risultato se il funnel attualmente ce l'hai in infusionsoft infusionsoft ha proprio un funnel builder internamente teoricamente tu potresti passare tutto non solo infusionsoft non solo kajabi ma te lo dico io l'ho fatto anche proprio infusionsoft stesso lo potresti passare dentro kartra perché oggi quello che a meno che tu non utilizzi infusionsoft anche per se hai agenti o commerciali per il resto veramente kartra fa molto 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 simile a infusionsoft infusionsoft è un crm con automazione kartra è un programma di automazione e ha anche una piccola parte di crm ma se lo credi assolutamente poi intanto se sei all'interno del sistema puoi anche chiedere una call anzi tu suggerisco di chiedere una call e nella call di orientamento possiamo farlo per passare 25 prodotti che sono 25 corsi onestamente un po' di tempo ci vuole ora magari non ci vogliono 4 mesi però un po' di tempo ci vuole non riesco a darti non so quanti contenuti ci siano può essere necessario anche fare qualcosa di differente cioè può essere necessario andarli a ricontrollare tutti quanti sta di fatto che un po' ci vuole il metodo migliore che penso che io utilizzerei è prendere il funnel di Infusionsoft magari ripeterlo da qualche altra parte e già con Infusionsoft tu sai tutto quello che sono i vari step perché il builder di Infusionsoft è molto simile a quello che è Funnelitix o altro partendo dagli screenshot puoi magari già andare a vedere anche se magari non hai contenuti telemail o altro trasformare tutto ti dico quello che è il mio metodo trasformare tutto quello che è il funnel in attività in task e andare a capire quante attività perché poi quando hai un task ti rendi conto se quel task viene fatto in 10 minuti mezz'ora una giornata una settimana ok cioè creare una landing page se devi copiare quella che c'è probabilmente in 2-3 ore una persona riesce a farlo se devi crearla da zero forse in 2-3 giorni dipende un pochino quello che appunto è l'obiettivo però è possibile è possibile sicuramente mettersi a contarli purtroppo è necessario perché devi sapere tu quello che è il contenuto che viene dato ok quello che ti posso dire è che se oggi oggi scusami le parole che mi mangio le lettere che mi mangio se oggi utilizzi Infusionsoft e Kajabi domani a mio parere potresti utilizzare direttamente solo Kartra te lo dico perché io l'ho fatto per cui e so di molti altri anche all'estero che l'hanno fatto se puoi sapere come ripeto fissiamo una call e nella call orientativa dimostro anche come fare magari mi fai vedere tu il tuo account Infusionsoft io ero il CP prima per Infusionsoft per cui lo conosco abbastanza ok